fratello rossonero amici di youtube buonasera 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 per l'ultima volta amici sono qua praticamente sul balcone di casa mia e niente ho fatto la diretta oggi volevo ancora fare i ringraziamenti per tutto quello che è successo negli ultimi agosto settembre ottobre novembre dicembre cinque meno neanche agosto fai da settembre comunque adesso gli ultimi quattro mesi il successo che ho ottenuto comunque su youtube è veramente una cosa che non mi aspettavo ho fatto una diretta oggi di 26 minuti per ringraziarvi però mi sembra ancora più doveroso ringraziarvi per quello che comunque sia stato quello che è successo quello che mi avete dato ok è iniziato tutto da niente praticamente da nulla perché non mi aspettavo ma neanche minimamente che sarebbe successo quello che veramente è realmente successo che dire oggi siamo all'ultimo gli ultimi ore di quest'anno vi auguro veramente tanta tanta felicità per voi per le vostre famiglie per tutti i vostri cari è stato è stato un anno che calcisticamente a noi tifosi rossoneri veramente è stato un dramma per noi però noi siamo sempre qua con le sciarpe con le bandiere con tutto con la presenza allo stadio senti quei botti che cioè i bambini di adesso che che dicono ma perché tifo milan perché ci siamo noi ci siamo noi ci siamo noi fratelli rossoneri ci siamo noi ci siamo noi che ancora andiamo in giro con le sciarpe con le magliette tutti ci facciamo sentire è questo il nostro bello che deve essere adesso in attesa che qualcuno ci compri perché la società che abbiamo adesso veramente una società farlocca è una società inutile è una società che ci sta prendendo veramente in giro e tutto quanto è ci è andato ibra benissimo ma per come è arrivato ho detto a me non mi è piaciuto sono felicissimo che è arrivato ibra perché spero che che dia disciplina che dia che dia onore che risvegli un attimino la voglia di giocare a quelli che abbiamo adesso in rosa però non basta questo adesso veramente io mi aspettavo che maldini scendesse in campo si mettesse finalmente facesse l'uomo davanti a telecamera direbbe i risultati non sono quelli che io mi prospettavo ok ne arriveranno degli altri ragazzi una volta tanto ci mettesse la faccia io maldini mi auguro che tu comunque nell'anno nuovo ci metti molto più la faccia di adesso perché tu non è che adesso stai facendo il cacciatore stai facendo il dirigente ok e quindi stai facendo un ruolo che per noi è fondamentale non stai facendo per niente bene quindi mi auguro che tu per l'anno che viene che vedi sto video qua e che metti un po più di palle quelle che non hai mai messo mai in vita tua e che ci porti comunque a vittorie ci porti a cose io spero di non vederti mai più sinceramente parlando spero guarda io mi auguravo che tu facessi che tu avresti fatto le dimissioni cosa che fino adesso non hai fatto mi auguravo che eliot dava una scossa a tutto questo ok che ci faccia sentire importanti che dava una scossa diceva bene va bene la dirigenza è andata bene tutti a casa tutti a casa prendiamo dei nuovi non l'ha fatto perché evidentemente comunque il fondo di calcio non ne capisce un cazzo non ne capisce nulla del calcio perché se io metto dei soldi dentro in un prodotto comunque che si chiama milan un prodotto molto importante e vedo che i protagonisti che la dirigenza non non sanno fare il loro lavoro mi aspettavo che li licenziavano uno per uno non è stato fatto da massara che lì inutile da boban che non è all'altezza da maldini che è un improvvisato perché maldini non è capace di fare dirigente mi aspetta ci mi ricordo galliani che andava davanti alle telecamere tirava veramente c'è ma incazza una volta l'ho visto con alciato veramente questo è un servizio calciato aveva sbagliato il numero degli spettatori c'è questa cosa qua su youtube mettete alciato galliani quanto cazzo era incazzato galliani un giorno perché calciato aveva detto ci sono 30 ci sono 16 mila paganti invece erano 33 mila più 16 mila 48 mila si è incazzato come una bestia in sala stampa ha fatto un casino con alciato che l'ha svergognato io mi aspettavo che maldini andasse in sala stampa incazzato come una bestia ogni fine partita che prendeva posizione cosa che non ha fatto io questo mi aspettavo tu non l'hai fatto quest'anno noi tifosi del milan ci auguriamo che l'anno prossimo ok non da subito perché sicuramente da giugno ci saranno comunque penso dopo la fine del campionato ci saranno nuovi nuovi prospetti comunque per noi tifosi mi auguro che veramente viene andati via tutti uno per uno ok però mi auguro che almeno finiate il vostro lavoro comunque con dignità quella che fino adesso non avete avuto ok questo messaggio che di di buon anno è per tutti i tifosi delle squadre ok e faccio l'augurio a tutti a stefano del asso di roma a lo zoccolo duro a sergio saruggeri carta curva nord come adesso mi hanno dato un bellissimo messaggio francesco cancelliere max mister blogger da ci mettiamo dentro giovanni manfredi total fred a tutti i tifosi milanisti a al mio grandissimo carissimo amico diego ligorio a tutti quanti le vostre famiglie mario inter luca mastrangelo stronzo che sei che manco mai mai cagato di pezza e non voglio neanche più che mi chiami visto che comunque sia sembra quasi che te la tiri a rispondere dei messaggi tu fa il video non rispondi neanche comunque ti auguro lo stesso un augurio di buon anno ok visto che ho fatto donato inglese li faccio i migliori auguri di buon anno e mi auguro che comunque sia buon anno per tutti ok stando su questa piattaforma ho avuto modo in questi quattro mesi di vedere che è veramente comunque uomo e che che non lo è e niente ok penso che sono sempre stato una persona corretta nei confronti di tutti spero che tutti d'ora in poi siano una persona corretta nei confronti di altri ho fatto tanti video con qualcuno fabio bergomi che li faccio gli auguri che è nato un'altra creatura a catto che ho fatto il video gingone lì ghittione che ho fatto video con lui anche con lui vi auguro veramente buone feste a tutti quanti e niente per i fratelli rossonieri veramente noi ci meritiamo altro siamo una situazione drammatica in questo momento lollo scusami non ho nominato lol vedete adesso mi vengono in mente tutti lollo che che non ho nominato a tutti gli utenti mica a jacopo orizzonte che mi è stato vicino sempre da inizio alla fine a tutti gli altri utenti che sempre mi hanno scritto sempre 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 da quando ho aperto questa piattaforma e niente comunque guarda conoscendo comunque anche gli altri youtuber sulla piattaforma ho visto che la piattaforma di youtube aiuta a fare amicizie a fare le guerre non servono a nulla non servono a nulla ragazzi perché le guerre portano la fame la fame portano la mancanza di soldi la mancanza di soldi porta la mancanza di tutto veramente mi auguro che sia un 2020 comunque sia nella sportività non ho nominato anche malati zebrati non nomino mai gobbi malati zebrati che ultimamente adesso ci stiamo scambiando delle cose tutto quanto è anche se secondo me fa delle live che non capiscono un cazzo di calcio però li saluto lo stesso e niente danni bianconero che ho conosciuto anche lui mi sono scambiato comunque delle cose e niente che dire fatevi una bella serata per gli utenti ancora vi ripeto se stasera andate a ballare e guidate non bevete state tranquilli pigliate il driver pigliate il taxi mi avete chiesto in tanti che che prenderesti a giugno cos'è come giocatore del milan mi auguro adesso to di bo mi auguro che arriva bakaioko a fine anno perché a scadenza di contratto o matic davanti alla difesa che mi piace tantissimo posso anche far delle scuse a giocatori che comunque sia o pizzicato insolano che sono cronici e benasser e veramente mi scuso con loro perché anche se sono due retrocessi non retrocessi sono due retrocessi dell'anno scorso che sono comporati benissimo mi auguro che veramente a suso adesso con ibra li torna la voglia di giocare perché suso comunque non ho mai detto che suso anzi l'ho sempre detto che suso deve andare via però oggi parlando con gente suso non è che non è capace di giocare a palloni suso non ha voglia di correre che sono una cosa gravissima in modo di vedere quindi mi auguro che veramente che romagnoli faccia il capitano a me sta cosa qua che c'è anche raiola che adesso c'è metà milano in mano sta cosa non mi piace perché raiola lo odio quindi comunque è una cosa che mi fa anche abbastanza paura questa e niente vi abbraccio tutti quanti ragazzi augurone ancora voi le vostre famiglie per un bellissimo anno assieme ancora vi giuro che cercherò sempre di essere me stesso sempre il rassa sarà sempre lui stesso ok vi mando un abbraccio forte e vi mando un grosso abbraccio un grosso bacio guardate potete chiedere che è venuto avvenuto nel mio bar se mi sono mai comportato male se ho sempre fatto altezzoso mai successo anzi mi sono sempre comportato benissimo anche con bruno con cesare i salzani con tutti quelli che sono venuti che aspetta ancora diego è venuto oggi diego di negrar che saluto fortemente ciao diego trovo promesso che ti salutavo ti saluto ok con alessandro con alessandro di negrar anche lui con federico con tutti quanti un abbraccio grande ciao a tutti ragazzi